Ha abbattuto un albero scontrandosi con vasi di fiori finendo la sua corsa ridosso del muro di un'abitazione. Era circa mezzogiorno e mezzo quando l'auto completamente fuori controllo è piombata in questa villetta di piazza 29 Aprile a San Giorgio in Bosco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dapprima messo in sicurezza il veicolo per poi estrarre il conducente ferito in modo grave e trasportato con l'elicottero in ospedale. Il cortile dell'abitazione è stato sgomberato degli ottami del veicolo con l'autogru. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 15.